Oggi, martedì 12 dicembre, la CGL di Macerata ha ospitato una conferenza stampa indetta dalla stessa CGL e dalla filea di Macerata per documentare la grave situazione di illegalità in cui versano i cantieri delle SAE e svelare il complesso sistema di appalti e subappalti che consente questi illeciti, esponendo anche i cantieri a rischio di infiltrazioni di criminalità organizzata. Sicuramente i problemi sono tanti perché di fatto vediamo replicati i subappalti. Da un appalto iniziale dato a un consorzio, poi vengono istituiti altri consorzi e addirittura dei contratti di rete. Questi contratti di rete sono meno trasparenti rispetto ai consorzi normali. Tutta questa catena alla fine si ripercuote sia su chi lavora con i casi che abbiamo appena documentato ma in futuro su chi andrà su quelle abitazioni e soprattutto e non solo su tutti i cittadini che finanziano questi lavori pubblici. Quindi occorre assolutamente rendere operativa l'ordinanza 41 sul DURC per congruità sull'incidenza della manodopera. Ma questo non basta perché occorrono delle norme più stringenti, dei controlli di tutti gli enti cui bisogna dare più risorse per aumentare il personale, per effettuare questi controlli, soprattutto preventivi ma per entrare nei cantieri. Perché nei cantieri abbiamo visto quello che sta succedendo. Siccome stiamo parlando dei cantieri dell'emergenza, la vera e propria ricostruzione ancora non è partita, siamo particolarmente preoccupati per quello che potrà succedere dopo, in quanto l'importo delle opere è notevolmente superiore e potrebbe essere ancora più facile raggirare le norme che denunciano qualche debolezza. Noi abbiamo dovuto fare questa conferenza stampa, rappresentare questa situazione, proprio perché ci sono questi lavoratori che ancora stanno nel campo base e dobbiamo assolutamente tutelarli, come tutelare tutti gli altri lavoratori che stanno in queste condizioni. Noi ci auguriamo che i cittadini che da più di un anno aspettano di ritornare nelle proprie casette ritornino nelle casette ma fatte a regola d'arte. Nelle cantieri di SAE ormai da quattro mesi, oltre a ciò che ci viene rappresentato dalla cronaca e cioè il rincorrersi dello scarico delle responsabilità rispetto ai ritardi i quali tutti tocchiamo con mano ogni giorno che andiamo sui cantieri, ma come CGL secondo noi è arrivato il momento di dire ciò che sta succedendo ai lavoratori in quei cantieri. non da ultimo, anche l'8 dicembre è stato sollecitato dalla protezione civile che si rammaricavano che non stavano lavorando in quella giornata di festa. Ebbene, quei lavoratori ormai non ce la fanno più, perché oltre che lavorare sette giorni su sette ci sono state situazioni veramente da denuncia immediata e cioè un lavoratore che si fa male in un cantiere a Ussita alle 10 del mattino e viene portato non in ospedale ma nella propria baracca solo alle 18 di sera. E la semplice fortuna che un funzionario della CGL era lì a espletare il proprio lavoro cioè quello di parlare con il lavoratore in cantiere, venuto a sapere della notizia l'abbiamo accompagnato in ospedale. Si sta andando oltre qualsiasi asticela di qualsiasi regola e le retribuzioni sono nemmeno la metà di quelle previste contrattualmente. Ebbene, tutto questo ci fa ancora di più reclamare con forza il famoso DURC per congruità sperando che nei prossimi 10 giorni i soggetti chiamati intorno al tavolo dal commissario possano raggiungere l'accordo e far sì che almeno per l'inizio della ricostruzione ci sia questo benedetto documento per congruità.